ciao ragazzi siamo all'hotel di brema qui questa è la vedete il corridoietto e qui c'è la nostra camera guardate che figata vabbè andiamo prima al bagno perché è subito qua aspetta non si può entrare però sai guardate che bello il bagno spettacolo chissà domani quello di amburgo l'olive in certo vogliamo ci questo vedete date che bella camera veramente figa per appoggiare tutto qua questa scrivania in me sono un televisore enorme vedete c'è anche il ventilatore e guardate che vista piano non c'è niente di poco di meno che l'ipotomo perché si chiama atlantic hotel galoppen ban galoppen ban praticamente adesso non si vede niente ma non c'è nulla però ci sono solitamente i cavalli che corrono vedete pensate un po e da qua dalla camera e oggi facciamo con un altro video stasera un saluto dall'hotel di brema e tra poco andremo in centro cucura grazie a tutti grazie